Asa, tutto questo, anche secondo te, può togliere tentazioni a Salvini anche rispetto a questioni, perché poi ne parleremo comunque nel merito, perché la delega fiscale sarà anche una scatola da costruire, però dei contenuti ci sono. Potrebbe avere la tentazione, estimi catastali, la riforma di quota 100, che sarà nella manovra perché finisce quota 100 e quindi sarà qualcosa da fare il governo, che non piacerà a Salvini necessariamente, o sei d'accordo con Claudio Tito e comunque per ora non può cambiare nulla. Salvini è evidente che è entrato in una fase in cui cerca di mettere in campo uno schema, uno schema che somiglia molto a una strategia di rottura, perché non è ovviamente un caso, come è stato notato anche prima, che il giorno dopo una scoppola micidiale presa dall'amministrativa di Salvini cerchi di trovare un modo per esistere, per far esistere alcune sue posizioni, tra l'altro su una riforma come quella della delega fiscale, che in buonissima parte registra molti successi da parte del centrodestra, perché le tasse non aumenteranno, viene prevista una riforma dell'IRAP, anche dell'IRPF, quindi dovrebbe essere un grosso successo del centrodestra. Il punto è che mentre Salvini nella stagione del governo del Conte 1, quando aveva cominciato a rompere, aveva uno schema chiaro, un 4-3-3, Odio Salvini somiglia ad Oronzo Canà, che mette in campo uno schema che non esiste, perché quello di Salvini è un 5-5-5, perché è uno schema che non funziona né all'opposizione né al governo, perché se Salvini comincia a inseguire Giorgia Meloni, quindi se prova a intestarsi l'agenda dell'opposizione, Salvini butta letteralmente nel gabinetto quello che ha fatto negli ultimi sei mesi, se viceversa sceglie di mettere entrambi le zampe dentro questo governo investendo nell'agenda Draghi, rischia di portare avanti una trasformazione della Lega che Salvini non riesce a interpretare, perché quando buona parte della Lega si specchia in Draghi, buona parte della Lega, specie quella dei governatori, vede un qualcosa che gli piace, quando Salvini si specchia in Draghi vede qualcosa che piace ai governatori ma non piace a lui stesso, perché Draghi ogni giorno da sei mesi dà una botta micidiale all'agenda Salvini, sull'Europa, le relazioni internazionali, il rapporto con i partner europei, sull'economia, sulle tasse, niente flat tax, ogni giorno una sveglia, quindi Salvini è esattamente l'oronzo canale della politica in questo momento perché ha uno schema che non esiste, ha un problema alliello locale, non esprime classe dirigente tranne nelle regioni, un problema alliello nazionale perché con i suoi alleati ogni giorno si prende a schiaffi, un problema internazionale perché la destra in questo momento in giro per il mondo non ha punti di riferimento, non c'è più Trump, la Le Pen è in difficoltà, i leader oggi, i punti di riferimento fortissimi, come avrebbe detto un tempo Zingaretti per Conte, sono Orban e basta, non c'è più nulla, Bolsonaro, neanche lui, Boris Johnson, neanche lui, la Brexit, neanche lui, è un disastro politico, culturale, geopolitico che non può funzionare con lo schema ronzo canale. Toccherà ferro Salvini.